ciao a tutti bentornati o benvenuti se siete nuovi e su questo su questo canale ringrazio anche tutti coloro tutti tutti quelli che si sono iscritti e nell'ultimo periodo per chi è un vecchio iscritto lo saluto cordialmente spero abbia passato un buon natale e queste sono giornate un po più tranquille tra il natale e il capodanno quindi ho un po più di tempo per fare qualche video quello che volevo proporvi tempo fa avevo fatto un video su cinque modi di suddividere le pagine sul bullet journal per quanto riguarda la visione settimanale ve ne propongo altre cinque e vi faccio vedere l'olio fatto in maniera veloce su un quaderno che aveva delle pagine bianche non utilizzate e quindi vi faccio vedere quello che vi propongo ora dunque un'altra visione scusate settimanale può essere fatta in questo modo vediamo un po se riesco allora potete qui scrivere il numero della settimana prima settimana seconda settimana terza settimana oppure le date dall'uno al sette insomma quello le giorni insomma della della settimana e qui le le principali incombenze task qui alcune note e qui suddividere per tutti i giorni della settimana io ne ho fatte sei anche perché di solito sabato e domenica vengono suddivisi in in due parti oppure vedete un po voi insomma magari di stringere il campo e farne una da tre un'altra da da quattro qui ho messo il mese e qui sotto ho evidenziato con un pennarello vi faccio vedere perché sono un po contro luce ecco vedete ho evidenziato con un pennarello con un tombo lilla delle righe nelle quali voi potete mettere dei piccoli appunti non so delle chiamate da da fare o qualche cosa insomma vediamo proseguiamo altra alto altra visualizzazione della settimana potrebbe potrebbe essere fatta così allora sempre con dei riquadri questi sono dunque 4 sono 3 7 più quello delle delle priorità vedete queste le priorità e qui ci sono tutte le giorni poi scrivete come volete io sono partita sabato domenica eccetera e comunque come come volete qui mettete ci sono dei pallini dove potete mettere le tre cose più importanti da fare nella giornata e qui ho suddiviso con l'orario vedete dalle 8 alle 8 alle 20 qui si vede meglio ok quindi potete suddividere la vostra giornata in questo modo quindi questa è un altro modo per suddividere la settimana in maniera abbastanza semplice questo invece è fatto così allora nella parte alta mette del mese con i giorni della settimana dal 1 al 7 mesosi anche se insomma è una cosa indicativa qui ci sono gli obiettivi qui le cose da fare e qui ho messo le note e qui ho messo tutto ciò che riguarda il set che è stato suddiviso anche questo in una due tre quattro in quattro fasce la prima parte della settimana altre tre fino alla domenica e qui potete prendere un appunto per la settimana successiva io poi l'ho scritto in inglese ma potete scrivere in italiano scrivete come volete insomma ognuno sceglie quello che preferisce altra altra altro modo per per suddividere la settimana sempre su due pagine e questo sempre questi riguardi di cui uno diviso in due per sabato e domenica vedete lunedì martedì mercoledì e qui a fianco c'è la lista dei to do una lista delle idee la lista di ciò che dovete comprare cosa dovete ricordare poi potete dividerlo un po come volete ecco c'è qui magari potete fare anche un piccolo tracker scegliete voi insomma come suddividere la pagina questa è solo la visualizzazione sempre in due pagine questa è quella che io sto utilizzando al momento è molto semplice è un po diciamo organizzata sul sul col metodo gtd come sapete e questa è la settimana metto qui la settimana il numero della settimana poi qui metto il progetti in corso e suddivisi per lavoro casa e personali qui ci sono tutte le cose che sono in attesa per esempio delegato qualcuno a fare qualche cosa quindi poi devo monitorare per vedere se è stato fatto oppure se ho fatto degli ordini che aspettando degli ordini insomma nella settimana no tutti quelli che ho fatto non ne faccio tantissimo ultimamente è passato quindi insomma abbastanza sotto controllo la situazione però mettete i piccoli ordini delle prime cose che state aspettando che sono in attesa qui ci sono le commissioni che fate fuori quindi potete scrivere ciò che vi serve da acquistare fuori ciò che dovete fare fuori e qui ho lasciato liberlo per le note tutto ciò che sono piccole cose da fare durante la settimana poi suddivido qui non l'ho fatto e questa è la settimana poi giorno per giorno e suddivido il come si chiama la giornata con gli orari con tutte le cose da fare le cose da spedire le chiamate le chiamate le commissioni da fare fuori insomma viene suddiviso poi tutto questo giornalmente va bene spero di essere stata utile e penso di fare un altro video sul mio bullet journal del 2022 adesso comincio a sistemare un po le pagine poi ci risentiamo ciao ciao